Torna oggi al lavoro il Pescara, confortato dal primo successo in campionato di domenica scorsa, ma con un po' di preoccupazione per le condizioni di Antonio Balzano. Il terzino ha lasciato il campo domenica scorsa a circa 10 minuti della fine, sostituito da un positivo Ciofani per un guaio al ginocchio, la cui entità è ancora da accertare. Certo è che il problema al legamento collaterale lo costringerà a stare fermo per le prossime tre settimane almeno, nell'auspicio che l'infortunio non si riveli ancora più serio. Non se la passa meglio anche Davide Bettella, il difensore di proprietà dell'Atalanta, era stato convocato al pari di Marco Tuminello per il doppio impegno dell'Under 21, amichevole a Catania contro la Moldavia, e poi in match per le qualificazioni agli europei a Castel di Sangro contro il Lussemburgo martedì prossimo, ma ha fatto ritorno a Pescara per i postumi di quell'infortunio, contusione al piede, che il centrale ha riportato nella gara di Coppa di Empoli. Tuminello, al pari di Ingelsson, convocato in Svezia Under 21, tornerà a disposizione di Zauri da mercoledì prossimo. Anche per via di questi contrattempi, ai box c'è da oltre un mese Luca Crecco, che la sosta di campionato non dispiace. Giorni per smaltire gli infortuni, giorni per consentire l'inserimento ai nuovi. Il difensore Mirko Drudi, ultimo movimento sul fronte entrate del Delfino, ma anche il gioli d'attacco Milos Bocic. Discorso diverso per José Macin, buttato subito nella mischia da Zauri, titolare a sorpresa contro il Pordenone, che un po' di compagni reduci della scorsa stagione già li conosce. I biancazzurri lavoreranno al ritmo di due sedute giornaliere, oggi e dopo domani. Mentre domani, dopo la seduta mattutina, la squadra disputerà una amichevole a Morrodoro, ore 19.30, contro la locale formazione militante nel campionato di promozione. La prossima tornerà ad essere la settimana tipo, che porterà alla gara di campionato del San Vito Marulla contro il Cosenza.